Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Il premio Nobel Giorgio Parisi ha detto una volta Dio per me non è nemmeno un'ipotesi. Questa è la frase che è stata riportata da molti quotidiani, una frase che a talunni è piaciuta, ad altri non è piaciuta, ma al di là dell'indice di gradimento soggettivo la frase merita di essere commentata. Intanto per l'arroganza che caratterizza questa frase, Dio per me non è nemmeno un'ipotesi. Ora Parisi fa valere con questa sua affermazione la spocchia di una certa scienza che pretende di essere autosufficiente, di non aver bisogno della teologia, della metafisica, magari neppure dell'arte. Bisognerebbe rispedire certi soggetti, diremmo con Hegel, alla scuola elementare della saggezza. Mi permetterei di far notare pacatamente a Giorgio Parisi, con tutto il rispetto dovuto a una figura che indubbiamente merita rispetto. Mi permetterei di fargli notare che Dio è un'ipotesi di cui hanno discusso Aristotele, Platone, Agostino, Tommaso d'Aquino, Hegel, Kant, e dunque non si capisce davvero con quale argomentazione si possa liquidare Dio come se non fosse nemmeno un'ipotesi ragionevole. Si potrà esaminare criticamente la questione Dio, ma liquidarla prioricamente come un'ipotesi di cui nemmeno bisogna tenere conto. Ecco, a mio giudizio, questo è un atteggiamento dogmatico indegno di chi vuole utilizzare in tutte le sue potenzialità il Logos. Quindi in questo caso il signor Parisi ha fatto un errore, a mio giudizio. Tutti possono sbagliare, sia chiaro, anche chi come Parisi è persona indubbiamente intelligente e preparata nel suo ambito, e però mi permetto di dire al signor Parisi che la scienza di cui egli è un grande cultore e con grandi meriti non può occuparsi di Dio. La scienza si occupa del particolare empirico, non dell'universale, non della totalità, non dell'assoluto, e quindi sarebbe una pura sciocchezza pretendere che la scienza risolvesse la questione di Dio, che invece è di pertinenza della filosofia e della teologia.